La direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria ha eseguito un decreto di sequestro di beni emesso dal locale tribunale nei confronti di Vincenzo Oliveri, 61enne, nato a Villa San Giovanni, noto imprenditore nel settore oleario, con proiezioni di rilievo nel comparto alberghiero e in quello della ristorazione, sequestrati un fabbricato e un terreno circostante siti in Gioietauro, il cui valore complessivo è stimabile in circa 700.000 euro. Un giovane di 21 anni, residente a Staletti, in provincia di Catanzaro, lotta tra la vita e la morte dopo essere rimasto gravemente ferito dopo una caduta durante una serata in compagnia di amici. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il 21enne si trovava in compagnia di quattro amici quando sarebbe salito sul tettuccio di un'autovettura. Il ragazzo avrebbe perso improvvisamente l'equilibrio e sarebbe caduto a terra, sbertendo violentamente la testa. Trasportato in ospedale, è stato prima sottoposto a un delicato intervento chirurgico, quindi ricoverato nel reparto di rianimazione. È morto all'età di 62 anni Anselmo Di Bona, per anni considerato il presunto boss della cosca dei Gaglianesi, deceduto per cause naturali. Il soprannominato Cavallo Pazzo Di Bona era ritenuto dalla DDA di Catanzaro, legato alla cosca degli Arena di Isola Caporizzuto, e fu condannato in primo grado a otto anni e quattro mesi nel 2008 per associazione a delinquere di stampo mafioso, nell'inchiesta denominata Revenge. Tre intimidazioni in una notte sola contro altrettanti esercizi commerciali a Crotone. Nel Mirino sono finiti in particolare due ristoranti che appartengono allo stesso proprietario e un laboratorio di parrucchieria. In via Claudino Crea sono stati esplosi tre colpi di pistola contro l'esernante del ristorante Pago. Stessa dinamica, qualche chilometro più avanti, tre colpi di pistola hanno infranto la vetrina del negozio Donna Più. La terza intimidazione è avvenuta in via Nazioni Uniti contro un altro ristorante Pago. sugli episodi indagano la squadra mobile della Polizia di Stato e i carabinieri della Compagnia di Crotone.